Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti nella lezione numero 25 di questo corso di Blender. Oggi andiamo ad apprendere un po' meglio il complesso mondo della fisica. Il complesso mondo della fisica si gestisce da questo menu di colore blu che si trova sotto il menu delle particelle e che si trova a sua volta sotto il menu dei modificatori. Come vedete, ho allargato un pochino il mio properties, se voi ce l'avete la dimensione di default vedete queste opzioni allineate. Andiamo a comprendere cos'è la fisica. 3 e 2 lezioni fa abbiamo imparato a animare utilizzando una tecnica molto interessante che è la tecnica dei keyframes che ci permette di animare attraverso appunto dei fotogrammi chiave un qualsiasi valore parametrico, quindi numerico all'interno di Blender compresi dati di locazione, rotazione, scala, il che ci permette di andare a creare animazioni o scene complesse animazioni soprattutto in modo molto molto semplice. Abbiamo visto anche che la tecnica dei keyframes, che di per sé può sembrare elementare, ma poi abbiamo approfondito quanto controllo ci da Blender in relazione ad esso, ma è importante anche sapere quanto i keyframes siano la tecnica più utilizzata all'interno di Blender e al medesimo tempo anche in realtà la più intuitiva perché magari certo usando il graph editor può diventare in alcuni punti anche abbastanza alto utilizzare il keyframe però nella maggior parte delle volte a livello di graph editor basta cambiare le interpolazioni, nel 90% delle volte la NLA non serve nel 90% delle volte neanche il dopsheet serve a molto, quindi nel 90% delle volte per animare è sufficiente andare a inserire un paio di keyframes, poi certo volete fare in modo che il cubo viva a creare proprio un movimento proprio molto complesso, volete avere il controllo totale, volete applicare i modificatori delle curve F lì magari c'è un po' più di difficoltà, ma alla fin fine vedremo che non è poi così complicato andare ad utilizzare i keyframes nella lezione precedente abbiamo utilizzato i sistemi particellari per andare a creare appunto interessanti effetti all'interno di Blender, per esempio i particellari possono essere utilizzati per creare un tappeto, una pelliccia, un prato, un bielo alberato, un sentiero qualunque cosa, dove ci sono tanti oggetti uguali Blender nel manuale ufficiale di Blender a cui potete accedere dal menu Help Manual beh, nel menu ufficiale di Blender i sistemi particellari sono considerati una parte della fisica quindi noi oggi iniziamo un grande cammino all'interno di Blender relativo alla fisica non durerà molte lezioni, però è molto importante conoscere al meglio la fisica stessa all'interno di Blender quello che più vi interessa, ho deciso di parlare ovviamente della fisica nel capitolo sull'animazione per un motivo molto semplice, che come vedremo la fisica può essere utilizzata per la creazione di scene animate questo per il semplicissimo motivo che essenzialmente la fisica funziona così io dico Blender, guarda Blender, questo oggetto è un corpo rigido, quindi qualcosa di solido come un pezzo di plastica dura guarda Blender, questo oggetto è un corpo morbido come un pallone di gomma guarda Blender, questo è un liquido, guarda Blender, questo è un oggetto di tipo fuoco guarda Blender, questo è un pezzo di stoffa gli vado a dare queste indicazioni in relazione a determinati oggetti quindi io impareremo a dire a Blender, guarda Blender, questo cubo per esempio, questo piano è un pezzo di cotone Blender, allora, associerà a questa informazione altri dati per esempio, quando la gravità è attiva, cosa che potete andare a regolare alla voce gravity cosa fa un pallone di cotone nello spazio? cade se io gli dico che un oggetto provoca delle collisioni su degli altri oggetti è sempre necessario, perché se a un determinato oggetto noi non diamo nessun dato di... se a un determinato oggetto non diamo nessun dato di nessuna informazione relativa alla fisica in questo campo Blender lo ignora però se io gli dico, guarda Blender, questo piano è un pezzo di cotone questo cubo che sta sotto è un... è un oggetto che provoca collisioni Blender da solo capisce che il piano cade e che se sotto c'è il cubo il piano si affloscerà attorno al cubo perché il piano è di cotone quindi automaticamente noi andando a dire a Blender che tipo di oggetto è andando ad andare a Blender un'opzione relativa a quel determinato oggetto tutte le opzioni le vedete appunto dal menu fisica noi possiamo andare a far capire da solo a Blender come si muove quell'oggetto quindi Blender da solo andrà a capire in modo preciso come avverrà il movimento di quel determinato oggetto e quel movimento me lo fa vedere solo che dato che è Blender che lo calcola mediante degli algoritmi ovviamente sarà molto più preciso dell'animazione di un keyframe con il keyframe perciò se io dico guarda Blender però ovviamente non avremo ovviamente sarà Blender che intuisce da solo il movimento quindi io dico guarda Blender lo impareremo in questa lezione questo oggetto è un corpo rigido quindi qualcosa di solido come un pezzo di legno e Blender da solo capirà che un corpo rigido cade se io gli dico guarda Blender questo oggetto provoca collisioni per quanto riguarda i corpi rigidi Blender da solo capirà che quando il corpo rigido arriva sull'oggetto che provoca collisioni sui corpi rigidi il corpo rigido smetterà di cadere e in altre parole la fisica consiste in questo io posso dire a Blender che tipo di oggetto abbiamo all'interno della nostra scena scegliendo tra tutte queste opzioni e dico tra parentesi che magari adesso vi possono sembrare poche dov'è il fumo, dov'è il fuoco però nel caso del fumo e del fuoco particolare vediamo che Blender considera fumo, fuoco, particolari, tipologie di fluid quindi alla fin fine queste opzioni vi permettono di gestire qualsiasi caso all'interno della fisica la fisica è appunto questa tecnica all'interno di Blender che vi permette di effettuare questo tipo di animazioni oggi apprenderemo proprio la fisica dei corpi rigidi quindi dei Rigid Body detto questo possiamo anche iniziare spostiamo il nostro cubo verso l'alto di solito usiamo GrabZ però volevo ricordarvi di Gizmo e cliccando su Rigid Body Blender mi va ad inserire dei dati relativi a questo oggetto quale corpo rigido se vado e quindi adesso Blender considera questo oggetto un corpo rigido se io faccio partire l'animazione vedo che il cubo semplicemente cade perché cade? perché è un corpo rigido è tipo un pezzo di legno se è un corpo rigido che farà? che fa un pezzo di legno sospensionale? ui! cado tanto semplice e come andiamo? Blender questo l'ha capito da solo e infatti il corpo cade è veramente molto molto elementare Blender considera anche i sistemi particellari come un particolare tipo di fisica per quanto in realtà le similitudini apparenti possano non essere così tante quindi Blender considera i sistemi particellari fisica per questo ho deciso di parlare delle particelle nella lezione scorsa e dei sistemi particellari in un percorso che stiamo avviando adesso in modo adiacente Alt mettiamo che io voglio che questi oggetti che questo oggetto cada prendiamo un piano lo scaliamo e siamo proprio prignoli quindi contro la scale nella lezione precedente avevamo creato il sistema particellare di un avevamo creato il sistema particellare di un piano e abbiamo visto che metteva delle particelle Blender considerava quelle particelle come dei corpi quindi Blender sapeva che le particelle erano oggetti fisici e di conseguenza sapeva che cadevano quindi noi non dovevamo dire a Blender guarda le particelle cadono andavamo a inserire un sistema particellare di tipo emitter e Blender da solo capiva che le particelle cadevano perché Blender perché Blender aveva già dei dati di fisica relative a quelle particelle e quindi Blender sapeva già che quelle particelle cadevano in questo caso per il cubo siamo andati noi noi siamo dovuti andare a dare a Blender dei dati di fisica cliccando sulla voce per eliminare questi dati basterebbe cliccare di nuovo sulla hits ma non è quello che vogliamo comunque nella lezione scorsa abbiamo visto che Blender aveva dei dati relativi a queste particelle che cadevano e avevamo applicato al piano una fisica di tipo collision cioè siamo andati nel menu fisica e abbiamo cliccato su collision perché? perché così facendo nella lezione scorsa abbiamo attribuito un piano messo sotto anche a lui dei dati di fisica in questo modo Blender l'ha considerato quando doveva andare a capire da solo il movimento delle particelle e le particelle vi rimbalzavano infatti se io faccio partire l'animazione vedo che il cubo passa semplicemente attraverso il mio piano perché questo piano non ha dei dati di fisica quindi Blender non sa che il cubo ci deve rimbalzare voi direte ah andiamo a dare dei dati di fisica con collision se facciamo partire l'animazione vediamo che tutto ciò non funziona infatti vediamo che il cubo continua a passare attraverso il mio piano eliminiamo i dati di collision e andiamo a capire perché beh il motivo in realtà è abbastanza semplice il fatto è che collision è un insieme di dati di fisica che generano collisioni con tutti gli tipi di oggetti tranne che con i rigid body mi spiego se voi noi vedremo che ovviamente i rigid body non sono gli unici oggetti dove ci interessa provocare una collisione quindi in questo caso abbiamo un rigid body che è il cubo e vogliamo creare una collisione che lo coinvolge una collisione con questo piano però ovviamente questo non si può fare solo con gli oggetti rigid body potremmo coinvolgere un oggetto di tipo cloth ad esempio all'interno di una collisione con questo piano un oggetto soft body bene se usassimo un cloth un soft body o delle particelle messe da un sistema particellare l'opzione collision funzionerebbe infatti nella lezione scorsa l'opzione collision andava a creare solo che se l'altro oggetto coinvolto nella collisione è un rigid body beh l'algoritmo deve essere rigid body immaginate i corpi rigidi come una tipologia di fisica a se stante perché la fisica dei corpi rigidi anche se la vediamo nello stesso menu rispetto alla fisica normale ha delle proprietà completamente diverse perché per esempio la fisica dei corpi rigidi è l'unica fisica che in qualche modo può andarsi a mettere insieme con i keyframes come vedremo tra poco la fisica del corpo rigido usa degli algoritmi diversi rispetto all'altra fisica quindi le opzioni corpo rigido quindi rigid body utilizzano un certo tipo di algoritmi completamente diverso anche se il risultato è simile rispetto agli algoritmi usati dagli altri tipi di oggetti fisici come soft body fluid collision cloth dynamic paint eccetera per cui gli algoritmi usati dai rigid body e quindi dal nostro cubo sono diversi dagli algoritmi che usa il collision e quindi il cubo non va a considerare il piano con gli algoritmi collision perché il rigid body funziona a se stante dobbiamo perché il cubo vada a considerare il mio piano dobbiamo inserire anche il mio piano come il rigid body in altre parole se voglio che si crei una collisione tra il cubo e il piano anche in altre parole solo i rigid body vanno a interagire fra loro è come un torneo all'americana ci sono quegli oggetti e solo i rigid body interagiscono fra loro un circolo chiuso non si può entrare facciamo partire l'animazione vediamo che ovviamente cade anche il piano allora possiamo adesso introdurre la nostra prima impostazione all'interno del mondo della fisica la tipologia di rigid body un rigid body di tipo active quindi un rigid body attivo è un rigid body dove blender considera tutte le simulazioni fisiche invece un rigid body tipo passive è un rigid body di tipo statico che quindi non cadrà ma che semplicemente crea collisioni con gli altri rigid body che vuol dire che se praticamente passando da active a passive il piano non cadrà più detto proprio in parole povere facciamo partire l'animazione e vediamo che è esattamente così adesso il piano non cade più però il cubo lo considera perché anche il piano rigid body fa parte del torneo all'americana dei rigid body per così dire e infatti vediamo che il cubo si ferma già abbiamo creato la nostra prima piccola animazione su rigid body nella lezione precedente parlando dei sistemi particellari abbiamo visto che in basso si riempiva piano piano una linea rossa che ci andava a segnalare in quali parti della timeline Blender aveva completato i calcoli relativi ai movimenti delle particelle quindi abbiamo visto nella lezione precedente che Blender doveva fare un gran numero di calcoli per capire come si muovevano le particelle e all'interno della timeline veniva segnalata con una linea rossa con una linea rosso vivo la parte della timeline nella quale Blender aveva completato i calcoli relativi ai sistemi particellari mentre veniva rappresentata con una linea rossa quasi trasparente la parte della timeline dove Blender sapeva che c'era un sistema particellare ce lo mostrava ma non avendo ancora completato i calcoli faceva un pochino più fatica a mostrarci il movimento delle particelle in tempo reale con i rigid body è la stessa cosa solo che la linea è gialla dove la linea è di giallo pieno giallo senape in realtà dove la linea è giallo senape pieno Blender ha completato tutti i calcoli relativi al rigid body dove invece magari la linea di un giallo senape quasi trasparente Blender sa che c'è un rigid body ce lo mostra ma dato che non ha ancora completato i calcoli potrebbe fare più fatica a mostrarci l'animazione in tempo reale ci mostra l'animazione in tempo reale lo fa sempre però potrebbe lavorare un pochino di più potrebbe essere un pochino più lento ovviamente io posso andare a modificare i dati relativi e vediamo come cambierà la mia animazione se io inclino questo piano il cubo essendo un corpo rigido come ogni corpo rigido ci volerà magari io adesso vado ad aggiungere un nuovo piano per salvare il nostro cubo essenzialmente e anche questo deve essere un corpo rigido di tipo passivo magari lo vuoto anche questo sull'assele le hits andiamo a vedere che il cubo ci vuole anche dopo questo adesso magari andiamo ad aggiungere un ultimo piano anche qui rigid body passive e il cubo cade tranquillamente e così abbiamo creato questo grande sistema di cadute rinominiamo i piani con collider 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 2.0 collider 3.0 selezioniamo i 3 collider muoviamoli in una nuova collezione e la chiamiamo colliders ok adesso rubiamo il cubo e lo selezioniamo il cubo e lo spostiamo e primiamo m nuova collezione nuova collezione per esempio scriviamo fallen object quindi oggetti caduti objects ragazzi adesso scriviamo una nuova collezione la rinominiamo in rigid bodies dal suo interno mettiamo sia i colliders che i file and objects adesso nella collezione collection rimangono solo la luce e la camera e la rinominiamo in camera and light ragazzi questa è la faccia rossa così come i rigid bodies perché si trovano allo stesso livello mentre colliders e fallen object li rendo arancioni bene sono tornato a una scena con un po' meno oggetti per lavorare meglio c'è sempre la collezione camera and light che è disattivata poi la collezione rb che è l'abrigazione di rigid body che è come sottocollezione la collezione active con tutti i rigid body attivi e la collezione passive con tutti i rigid body passivi che a proposito rigid body passive molto bene ne ho dimenticato di applicare i dati di rigid body al piano adesso andiamo a vedere alcune opzioni interessanti come per esempio le seguenti l'opzione massa quanto è massivo il mio corpo la modifica della massa del mio corpo ovviamente andrà a modificare il modo in cui si comporterà durante la mia animazione ricordatevi che se dovete spostare ruotare o scalare un oggetto rigid body di tipo active fatelo sempre al primo frame cioè non effettuate una trasformazione a un oggetto rigid body in object mode quindi non usate i comandi G R ed S quando siete a un frame diverso dal primo se lo faceste avereste piccoli problemi in relazione alla vostra animazione bene applichiamo un rigid body active anche all'icosfera come vediamo gli oggetti sono dove devono però andiamo a vedere che se io avessi il mio il mio cubo con la massa di default l'icosfera e il cubo avrebbero perfettamente la stessa massa perciò si darebbero una spinta all'un l'altro perfettamente equivalente magari e 3 hits faces in modo da evitare che l'icosfera cada giù tra poco vedremo che bene intanto vediamo che il risultato cambia leggermente se io applico la massa cioè se io rendo il mio cubo 100 volte più pesante l'icosfera non riesce più a spostare il mio cubo neanche di un millimetro ma il mio cubo lancia fuori la mia ecosfera e già questo è interessante poi ne possiamo d'accordo poi lascio per un attimo le opzioni dinamiche animatiche ne parlo tra poco ora se andiamo in wireframe mode molti di voi avranno notato che il piano su cui si fermano cubo l'icosfera è quello dei lati superiori della scatola qui in basso il fatto è che adesso il piano qui è bucato quindi fino a prova contraria il piano su cui poggiano il cubo l'icosfera in questo momento non coincide con nessuna faccia e nessun oggetto perché praticamente poggiano su un luogo vuoto vedete sono fermati a mezz'aria perché tutto ciò è relativo a come blender va a considerare gli oggetti rigidbody esistono vari algoritmi con cui blender può andare a considerare appunto i rigidbody per esempio può creare una scatola attorno ad essi ed utilizzare quella per considerare dove ci troviamo nell'oggetto e dove no mi spiego in altre parole blender di default quando va a calcolare il rigidbody quindi quando blender va a calcolare dove avvengono le collisioni di conseguenza come devono comportarsi gli oggetti beh blender non va a considerare di default la mesh così come è e in questo caso per così come è intendo una faccia inferiore con 4 facce laterali e nessuna faccia superiore quindi un totale di 5 facce beh blender non va a considerare la mia mesh così come è per rendere più veloce il mio processo di calcolo utilizza un algoritmo di calcolo chiamato convets hole dove lui praticamente tutti i buchi le ghientranze all'interno della mia mesh lui le va tra virgolette a chiudere praticamente la mancanza di una faccia superiore può essere considerata un po' come un buco all'interno della mia mesh una mesh tra virgolette non manifold anzi che è proprio non manifold quindi blender non va a considerare la mia mesh così come è ma gli ha creato una scatola tutta attorno ad essa ed è in base a quella scatola che lo gestisce le collisioni nel pannello transform in viewport display abbiamo imparato ad utilizzare l'opzione bounce che ci crea un po' una si queste linee attorno al nostro oggetto che però continuano ad essere considerate in modo normale è solo un'opzione di visualizzazione però applicando l'opzione bounce invece che testured voi vedete il vostro oggetto come un insieme di linee di costruzione bene con l'opzione di rigidbody converse hull blender praticamente va a considerare questa griglia del vostro oggetto quindi blender è andato a costruire quell'insieme di quando ho applicato il rigidbody blender è andato a costruire quell'insieme di linee attorno all'oggetto piano e è stato in base a quelle che ha gestito le collisioni in altre parole blender ha creato una specie di scatola con sei facce che si adatta il più possibile a questa mesh la scatola la scatola che è possibile che più si adatta a questa mesh è una scatola perfettamente identica all'oggetto plane solo che sopra è chiusa perché una scatola aperta non è il concetto di blender di tipo non è il concetto che blender intende appunto per scatola una scatola con un buco perciò blender praticamente utilizzava detto proprio in parole povere l'algoritmo di calcolo convets hull che dove la mesh eventualmente ha delle rientranze le va a considerare assenti in altre parole con il convets hull lui riteneva questa mesh qui in alto chiusa per risolvere qui abbiamo vari algoritmi di calcolo che blender può utilizzare se ne inseriamo per esempio uno diverso rispetto al convets hull vediamo come cambia nei risultati l'opzione bounce infatti ha creato un'altra scatola attorno alla mia mesh ma se convets hull utilizzava come riferimento per le collisioni le sei facce create che si creano abilitando l'opzione bounce beh l'opzione bots crea sempre una scatola attorno alla mia mesh infatti bots in inglese vuol dire scatola però il cui baricentro è il pivot per cui blender ci ha evidenziato con delle linee la nuova scatola che lui va a considerare e vediamo che con l'opzione bots considera una scatola uguale a quella di convets hull però messa più in basso per cui lui non considera la parte più alta delle pareti di questo oggetto e infatti l'icosfera va a cadere poi abbiamo l'opzione sphere che invece utilizza per le collisioni queste linee in altre parole lui vi fa vedere con tutte le opzioni tra necon bezul e mesh lui vi fa vedere delle linee che vi vanno a indicare quali sono le linee che blender utilizza per il calcolo delle collisioni beh in parole povere se un oggetto si trova già alla partenza dell'animazione già alla partenza dell'animazione un oggetto si trova all'interno rispetto di queste linee come succede in questo caso con il cubo l'oggetto viene fatto schizzare fuori l'opzione capsule utilizza un algoritmo di calcolo simile a sphere solo che ha la forma di una capsula cylinder vediamo che già cylinder utilizza un algoritmo di calcolo molto diverso ma pure l'algoritmo di calcolo cylinder va a ignorare la parte superiore delle pareti laterali del mio oggetto plane come faceva il bots coin ovviamente con ci va ovviamente a creare un effetto molto strano con bezul mi va a chiudere eventuali buchi in altre parole immaginate di andare in select select all by trade manifold di considerare tutti i vertici che blender dovrà selezionare e premere f quella è la mesh che blender considererà con l'algoritmo con bezul l'algoritmo esatto quello che non sbaglia mai è essenzialmente l'algoritmo mesh l'algoritmo mesh considera perfettamente la mesh così come è e quindi non sbaglia mai voi direte ma un momento allora inserisco sempre mesh sto apposto mi l'opzione di default con bezul funziona quasi sempre infatti per il nostro cubo l'opzione con bezul funziona benissimo se invece per il cubo andassi ad inserire l'opzione sphere andando in wireframe mode vediamo che anche in questo caso blender ci ha evidenziato le nuove linee di collisione che userà per il cubo quindi adesso lui utilizzerà come algoritmo di collisione queste nuove linee che mi sono appena apparsa all'interno del cubo e vediamo che il modo in cui lui andrà a calcolare i movimenti del cubo saranno i movimenti del cubo saranno completamente diversi con con vediamo blender ci fa sempre vedere il nuovo algoritmo relativo al cubo stesso rigutiamolo ancora di più per far vedere meglio e vediamo che con con il cubo è passato al di là rispetto al nostro oggetto con that's all funziona benissimo perché questo oggetto non ha essenzialmente mesh non manifold andate in edit mode select dopo aver disegnato tutto select select all by trait non manifold se non vi seleziona niente ma proprio niente ma proprio niente con vetsull va bene se vi seleziona anche solo pochi vertici dovete andare a mesh gli altri algoritmi io non li uso spesso perché mesh è l'algoritmo essenzialmente perfettamente funzionante vediamo che comunque sia in questo caso il risultato non è proprio perfetto perché blender va a considerare la mesh nei minimi dettagli e quindi vediamo che il risultato subisce comunque delle variazioni ma in realtà allora cosa dovete ricordarvi di tutto quello che abbiamo detto su shape bene in realtà ora compounded parent non è un po' la lasciamo un attimo da parte però ricordatevi in realtà con styling del capsule e respire e bots se vuole andate a selezionare vi fanno apparire le vedete in modalità wireframe delle linee delle nuove linee lungo la vostra mesh e sarà chic e blender effettuerà l'algoritmo di calcolo delle collisioni in base a quelle linee quindi utilizzerà quelle linee per capire dove l'oggetto sta collidando e dove no il che vi andrà a stravolgere i risultati del vostro lavoro con convex hull utilizzo un algoritmo a scatola chiusa che non può avere buchi che va più che bene a meno che non c'è anche un solo vertice manifold nella vostra mesh se c'è un solo vertice manifold nella vostra mesh dovete andare all'opzione mesh altrimenti si creano problemi infatti vi faccio notare che se io per il mio piano vado a convex hull si crea un problema gli oggetti che vi collidano restano sospesi a mezz'aria invece con mesh il lavoro è più preciso ecco come vi consiglio di ragionare voi prima di fare qualsiasi cambiamento all'opzione shape prima andate a vedere il risultato della vostra animazione se il risultato della vostra animazione è come vi aspettavate solo se è perfettamente come vi aspettavate lasciate convex hull e vadi non pensate a nient'altro se però il risultato dell'animazione è anche leggermente diverso dalle vostre aspettative andate a controllare quale opzione avete a shape se avete convex hull andate a mesh e il problema quasi sicuramente si risolverà dico quasi sicuramente perché non è l'unica causa di problemi con il rigid body ma è assolutamente la più ma è sicuramente la causa più comune magari mettiamo una lunghezza nell'animazione di 100 frame in modo che arrivato al frame 100 l'animazione si stoppa quindi ecco come dovete lavorare se ragionate così non avrete mai problemi inserite in primis l'algoritmo convex hull perché voi dite ma perché inserisco sempre mesh non ho mai problemi si ma inserendo tutte meshe il tempo di calcolo del vostro computer salirà esponenzialmente allora io vi consiglio di fare così tanto vedere al volo come viene l'animazione non vi crea problemi di default lasciate l'opzione convex hull mettete sempre convex hull e non avete problemi fate partire la vostra animazione se c'è un problema anche minimo al modo in cui blender fa i calcoli quindi se vedete che il risultato di blender non è quello che vi aspettavate solo se vedete che il risultato di blender non è quello che vi aspettavate selezionate l'oggetto in questione e passate da convex hull a mesh ovviamente dovete capire se dovete selezionare l'oggetto passivo oppure l'oggetto attivo fate delle prove cioè quando io prima vedevo che cubo e icosfera si fermavano a mezz'aria io ho capito che il problema era nel piano invece quando vedevo che il cubo si muoveva in modo strano una volta raggiunto il piano stesso quando ho visto che il cubo si muoveva in modo strano una volta raggiunto il piano stesso lì ho capito che essenzialmente dovevo cambiare l'algoritmo relativo al cubo allora io sinceramente vi sconsiglio di usare le opzioni bots sphere capsules cylinder con perché a me non è mai capitato di trovarle utili e sinceramente non vedo in quale caso possa essere utile avere una mesh che collide in modo y quando dalla topologia della mesh un osservatore si aspetta un modo it quindi sinceramente le opzioni da con a bots non sono importanti io sinceramente non le ho mai trovate utili voi di default lasciate converse wall e andate a vedere il risultato se c'è anche il più che più piccolo problema un problema anche minimo passate da converse wall a mesh ovviamente in questo caso devo passare da converse wall a mesh per quanto riguarda l'oggetto passivo quindi se vedete che c'è anche un ben che minimo problema prendete uno degli oggetti prendete gli oggetti coinvolti e passate da converse wall a mesh sicuramente il problema si risolverà c'è un problema anche minimo nel rigid body andate da converse wall a mesh nella shape degli oggetti coinvolti se non si presente nessun problema dovete farlo no non serve voglio capire da solo se il converse wall va bene edit mode deselezionate tutto select select all by trade non manifold se vi seleziona anche un solo vertice converse wall non può andare bene detto proprio in parole semplici bene adesso andiamo a creare un per esempio un oggetto di tipo toro all'interno della nostra mesh cioè all'interno della nostra scena scusate ovviamente non si muove perché non abbiamo applicato il rigid body però prima di applicare il rigid body vorrei fare qualche esperimento mettiamo tutte le rotazioni a zero e guardate bene quello che faccio i location e inserisco un keyframe frame 20 grab y i location frame 40 grab its i location frame 60 grab y i location frame 80 grab its i location no grab its i location frame 100 shift s selection to cursor i location adesso andiamo a vedere come si muove il mio oggetto bene il movimento è abbastanza buono adesso la grande questione è adesso la grande questione è abbastanza semplice come si comporterà il rigid body quando proverò ad inserirlo a un oggetto con dei keyframes cioè cubo ecosfera e anche il piano erano oggetti essenzialmente senza keyframe ma se io vado a chiedere a blender di aggiungermi il rigid body a un oggetto con i keyframe cosa succederà ho aggiunto il rigid body e vediamo che blender mi calcola il rigid body magari allunghiamo un pochino la durata della mia della mia animazione blender mi va a calcolare il rigid body in modo semplicemente perfetto senza ignorando completamente i keyframes cioè quando voi aggiungete un qualsiasi algoritmo di fisica blender mi va a ignorare i keyframes già presenti perché in realtà essenzialmente non ha senso inserire i keyframes a una mesh che poi andate ad animare con la fisica cloth o soft body bene vediamo che blender ha ignorato i keyframes in linguaggio più professionale si dice che blender ha sovrascritto i dati di animazione dei miei keyframes cioè ha ignorato completamente i miei keyframes ma io gli posso quindi blender ha ritenuto che il rigid body fosse più importante dei keyframes posso chiedere a blender di fare il contrario si abilitando l'opzione animated se dinamica è attivato e animated è disattivato blender ritiene più importante il rigid body se dinamica è disattivato e animated è attivato quindi se io attivo animated blender considera più importanti i keyframes mi spiego se ho dinamica attivato e animated no blender considera più importante la fisica il corpo rigido se io faccio il contrario blender considera più importanti i keyframes se io riabilito tutte e due blender comunque continua ma a ritenere più importanti i keyframes se io disettevo entrambi blender non fa niente ora già queste nozioni in realtà di per sé potrebbero bastare per una semplice spiegazione dell'oggetto di tutto ciò però voglio essere un pochino più preciso detto in parole povere il significato è questo se abilitato dynamic se il significato dynamic è questo dynamic vuol dire tienimi conto del rigid body se disabilitate dynamic lui non tiene minimamente conto del rigid body lo ignora completamente perciò non ha più importanza animated vuol dire non sovrascrivere i dati di animazione dei keyframes con i rigid body quindi non ritenere i rigid body più importanti di i keyframes ma se abilitato animated fa il contrario ritiene i dati dei keyframes più importanti dei rigid body quindi dynamic vuol dire devo oppure dynamic vuol dire devo oppure no tenere il conto dei rigid body animated vuol dire devo oppure no sovrascrivere il rigid body con i keyframes quindi con animated attivare e disattivare animated vuol dire dire a blender se animated è attivato che i keyframes sono i più importanti dei rigid body se è disattivato non dirgli che i keyframes sono i più importanti dei rigid body per cui se noi non gli diciamo che i keyframes sono i più importanti dei rigid body lui pensa che i rigid body sono i più importanti dei keyframes con dynamic animated i keyframes quindi in parole povere dynamic attivato e animated no vive rigid body dynamic disattivato e animated attivato vive i keyframes dynamic attivato e animated attivato vive i keyframes Tutte e due disattivati Non facciamo un bel niente E questo per quanto riguarda le opzioni Dynamic e Animated All'interno dei Rigid Body attivi Ovviamente per i corpi rigidi passivi La situazione è un pochino più semplice Possiamo attivare o disattivare L'opzione Animated Che dice al computer Di se deve o meno Tenere conto dell'animazione E dei Keyframes Perché in un corpo rigido passivo In ogni caso non può ignorare Il Rigid Body Perché nel Rigid Body attivo Per poter Tenere conto dei Keyframes Doveva ignorare il corpo rigido Per il semplice motivo Che entrambi gli andavano a dire Come si doveva muovere in oggetto Quindi Blender O ignorava i Keyframes O ignorava la fisica Perché sia Keyframes Che Fisica Dicevano come doveva muoversi l'oggetto In particolare I Keyframes Dicevano che l'oggetto doveva muoversi In questa direzione Mentre la fisica diceva Che doveva muoversi In questa direzione Fare entrambe le cose Ovviamente non era possibile E perciò Blender O ignorava i Rigid Body O ignorava la fisica Questo ovviamente non vale Per i Rigid Body passivi Perché con i Rigid Body passivi Lui non deve simulare un movimento Perché i Rigid Body passivi Come dice il nome Non si vanno a muovere L'unica cosa che lui sa L'unica cosa che fanno i Rigid Body passivi E influenzare quegli attivi Perciò Inseriamo per esempio Un Keyframes Alla rotazione Andiamo all'ultimo frame Al frame 110 Vuotiamo Il corpo sull'asse delle Z E reinseriamo Un nuovo Keyframe Della rotazione Il corpo si muove Però funziona anche Come Rigid Body Cioè il movimento avviene Però funziona anche Dal punto di vista Del corpo rigido Quindi I movimenti Noi li vediamo Ma Tiene anche conto Della fisica Del corpo rigido Tuttavia Vi faccio notare Che in alcune parti Della mia Scena Vediamo che Gli oggetti Per esempio Il toro Tendono A muoversi Come se L'oggetto Fosse ancora fermo Cioè Noi lo vediamo Muoversi Però non è cambiato Niente A livello di corpo rigido Mentre noi Fino a prova contraria Dovremmo vedere Anche cambiare Il modo in cui Lavora il corpo rigido Perché Noi vediamo L'animazione Però Il modo in cui Avvengono le collisioni Quindi il modo in cui Il piano Influenza Cubo Sfera E toro Non è cambiato Invece Se l'oggetto si muove Deve cambiare Assolutamente Il modo in cui Il piano Influenza Questi oggetti In altre parole Il piano L'unica cosa che fa È influenzare Questi tre oggetti Tuttavia La modifica Dell'animazione Del piano Non ha modificato Il modo in cui Quest'ultimo Esegue il suo compito Andiamo a risolverli Con Animated Con l'opzione Animated Il Rigid Body Andrà a tenere conto Dell'animazione Quindi Senza Animated Noi vediamo L'animazione Però Il modo in cui Avvengono le collisioni È esattamente Uguale A come le collisioni Avverrebbero Se l'oggetto Fosse fermo Con Animated Il problema Viene risolto Io personalmente Nei corpi passivi Vi consiglio di inserirlo Sempre Animated Perché se non avete Un'animazione Se nei corpi passivi Animated In quelli passivi Inseritelo sempre Perché se non avete Un'animazione Non vi crea problemi Se l'animazione Ce l'avete Va a fare in modo Che i Rigid Body Ne tengono conto Quindi io Per gli oggetti passivi Nel dubbio Lo attivo sempre Poi abbiamo L'opzione Source Lo spiego In pochissime parole Andiamo a lavorare Magari un pochino Con i modificatori Iniziamo Un Sub Surf Di tipo Simple Con 4 suddivisioni Adesso andiamo Ad usare Un modificatore Che abbiamo visto Nella lezione scorsa Il Displays Vi ricordate come funzionava Spero di si Andiamo a creare Per esempio Queste modifiche All'interno del nostro cubo Andiamo a aumentare La profondità Delle modifiche stesse Applichiamo uno Shady Smooth E vediamo che è un pochino Cambio di risultato Un Edge Split Non farà male Magari andiamo a far scendere Adesso un pochino La Depth Che è troppo grande E mettiamo a 2 La Size Ci basta Una piccola deformazione Adesso andiamo Nel pannello Dei corpi rigidi E in Source Mettiamo Base Vediamo che succede E vediamo che Blender Nel calcolo Delle collisioni Non tiene minimamente Conto del modificatore Displays Cioè le collisioni Sembrano fatte male A caso Però se noi andiamo A disabilitare Il Displays Vediamo che Blender Cosa ha fatto? Semplicemente Ha ignorato Il modificatore Perché? Perché In questa opzione Nell'opzione di Source Abbiamo messo Base In cui lui calcola Le In cui lui calcola Le conditioni Ignorando i modificatori Con Deform Vediamo che invece Lui modificatori Lui va a calcolare Nuovi algoritmi Relativi ai modificatori Tuttavia Non è proprio Preciso il risultato Perché? Beh Per rendere più Preciso il risultato Prima di abilitare La Mesh Prima di abilitare L'opzione Mesh E vediamo che adesso Blender va a tenere Un pochino più conto Del modificatore Con l'opzione Deforming Possiamo andare Che funziona Che esiste solo Se lo shape E la mesh Possiamo andare A fare in modo Che Blender Tenga completamente conto Di tutte le deformazioni Nel mio cubo Non solo quelle dei modificatori Ma anche quelle di Non solo quelle dei modificatori Ma anche quelle di Ovviamente Gli altri algoritmi di fisica Allora il mio consiglio è questo Di default Voi lasciate ConvertSool Se inserite un modificatore Passate da ConvertSool A Mesh Quindi di default Lasciate ConvertSool Se nella mesh ci sono A Se nella mesh ci sono A Zone non manifold B Modificatori Passate da mesh Passate da ConvertSool A mesh Perché dovete passare Da ConvertSool A mesh Solo in due casi Se A Ci sono mesh non manifold Se B Ci sono dei modificatori Se ci sono dei modificatori Dovete anche acceltarvi Che la source È base È deform Invece che base E non mesh E dovete anche abilitare L'opzione di deformazione Che va a tenere conto Anche degli altri algoritmi Di fisica Se ci sono altri algoritmi Di fisica Quello è un altro buon motivo Per abilitare mesh In ogni caso Se voi passate da ConvertSool A mesh Ogni qualvolta Che vedete che il risultato Non è quello sperato Se il risultato Non è quello sperato Beh Blender Deve andare a Dovete andare a passare Da ConvertSool A mesh Molto semplice Un modo per dire a Blender Di tenere conto Di tutta la mia mesh Nei minimi dettagli È inserire Assaults Final Con Final Blender va a tenere conto Di ogni modifica Anche minima Applicata la mia mesh Quindi base Tiene solo conto Della mesh Di base Quindi un cubo Con 8 vertici Deforma A tenere conto Per esempio Anche dei modificatori Final È l'algoritmo Di Solz Più preciso di tutti Infatti come vediamo Il risultato con Final È molto 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 preciso Tuttavia Aumentano i tempi di calcolo Bene Abbiamo già Queste belle opzioni E adesso Andiamo ad eliminare Questi modificatori Che non ci servono Tap 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 Adesso non serve più A avere Nell'algoritmo Mesh Nell'algoritmo Deform Se potete Far diminuire Il tempo di calcolo Io vi consiglio Sempre di farlo Magari in questa lezione Vi consiglio Di cercare Di Di copiare Le azioni Che faccio io Magari Vi potrebbe essere utile Per memorizzare bene E questo è quello che io intendo dire Alla fine della scorsa lezione Per Con la fisica Creerete animazioni Che vi sembrano fuori Della vostra portata Perché Magari Fare Animare un corpo Che cade Era possibile Con i keyframes Sì ma con tutto questo realismo Non ci saremmo mai riusciti Poi abbiamo anche Ultre opzioni Surface response Relativi per esempio Alla frizione E alla tendenza Del corpo a rimbalzare Per esempio Mettiamo queste opzioni Però ricordatevi che Queste opzioni Vanno a influire Sul corpo Che rimbalza Sopra l'oggetto Quindi se io voglio Modificare Il modo in cui Rimbalza il cubo Devo andare A lavorare sul piano Quindi questa è un'altra Cosa interessante Quando andate a lavorare In surface response Dovete lavorare Sull'oggetto passivo La frizione Vediamo come era il mio risultato Come vediamo Con la frizione Per esempio Il toro Non è arrivato A toccare Il toro Non è arrivato A toccare Il bordo A superare Quasi La parete laterale Del piano Non c'è riuscito Il toro Come faceva prima Proprio perché Una frizione più alta Gli ha impedito Di muoversi Di più Mettiamo 0 Alla frizione E vediamo come Cambia risultato Ecco come vediamo Il toro adesso Si muove molto più facilmente 0.5 di frizione È un buon numero Poi abbiamo Bounciness Che essenzialmente È la tendenza Di un oggetto Per rimbalzare Come vediamo Con il Bounciness Appunto 648 Invece che a 0 Gli oggetti rimbalzano Molto di più Con 1 I rimbalzi Sono veramente Molto molto evidenti Ricordatevi che Queste opzioni Vanno a regolare Essenzialmente Con La Sono Opzioni Che vanno a regolare La superficie Di quell'oggetto Quindi Se volete Cambiare Il modo in cui Un determinato oggetto Rimbalza Queste opzioni Le dovete andare A modificare In relazione All'oggetto Sul quale Rimbalza Per esempio Se io adesso Andassi ad aggiungere Una testa di scimmia Che non può mai mancare È la nostra Cara Susanna Mettiamola per esempio Sopra la posizione Che assumerà Il nostro cubo Ne facciamo in modo Che la sua simulazione Di corpo rigido Inizia Dal frame 50 Come possiamo fare Semplicemente Rigid body Active Però Dobbiamo dire Che al frame Uno Deve essere Un oggetto Animato Quindi deve tenere conto Delle simulazioni Di keyframes Andiamo a dire Che al frame Uno Dynamic Animated Si devono trovare In queste posizioni Facciamolo Abilitando i keyframes Adesso andiamo Al frame 50 Che dove Essenzialmente Vogliamo Che inizi La simulazione Della scimmia Poi andremo a vedere Cos'è successo Al cubo Nel frame 50 Queste opzioni Si devono invertire Quindi andiamo A dire a blender Che al frame 50 Le vogliamo Nell'altra posizione E infatti Al frame 50 La scimmia Inizia a cadere Abbiamo visto Che è successo Qualcosa di strano Con il nostro cubo Quello è stato Essenzialmente Causato dal fatto Che quando Due rigid body Si intersecano All'inizio Dell'animazione Beh Quello Beh Uno dei due Schizza via Non lo poteva fare La scimmia Perché la scimmia Era in animated Tra parentesi Se voi dite Alla scimmia Di tenere conto Dei keyframes Quando non ci sono Keyframes Allocation Rotation E scale Praticamente La scimmia Resterà ferma Comunque Questo piccolo Problema del cubo È molto semplice Da risolvere Semplicemente Scalando di poco Il cubo Scalandolo Magari Muovendolo Bene Andiamo Andiamo a vedere Che sulla frame 50 Inizia la simulazione Della scimmia Facciamo un'altra prova Non che la scimmia Cada Sul cubo Proviamo a modificare Un pochino Magari la sua posizione Ecco Come vediamo adesso La scimmia Cale sul mio cubo Sono dovuto Tuttavia Essendoci Il rigid body La scimmia Genera comunque Delle collisioni Sugli altri oggetti Mi spiego Mi spiego Il fatto Quando un oggetto Rigid body È alle opzioni Animated Invece che Dynamic Praticamente Genera collisioni Però a livello Di movimento Rotazione Scala Quindi a livello Di moto Blender Considererà Keyframes In questo caso Non ci sono Keyframes A livello Di moto Per cui Blender Andrà A mantenere La scimmia Ferma Quindi un oggetto Con dynamic Disattivato Animated Attivato Mi va A generare Collisioni Certo Si muove Seguendo Keyframes O Rigid body Keyframes Andiamo A fare Un'altra prova Ecco qua Vediamo tranquillamente Il nostro risultato In altre parole Le opzioni All'interno Dal menu Surface Response Mi vanno a regolare Il modo in cui si comporta La superficie Di un determinato oggetto Quindi Ovviamente Se io voglio modificare Il modo In cui In cui Si muove Il mio cubo Al momento del contatto Con un altro oggetto Io Ho la possibilità Di modificare Il modo in cui Il cubo si comporta In quel determinato istante Modificando Ovviamente Le proprietà Delle superfici Coimvolte Quindi Le opzioni Di surface Response Vanno ad influire Sul mio risultato Sia Che io vada A modificare Le opzioni Del cubo Che del piano Quindi Se io voglio Che il cubo Rimbalzi di più Posso andare A modificare Le opzioni Del cubo Si Perché il risultato Lo ottengo Andando a modificare Una Qualsiasi Delle due superfici Coimvolte E nell'impatto Tra il cubo E il piano Le due superfici Coimvolte Sono quella del cubo E quella del piano Tuttavia Nel caso in cui Un oggetto A cade Sopra un oggetto B Ottenete Un risultato Più forte Andando a modificare Le opzioni Di frizione Di frizione E rimbalzi Dell'oggetto B Quindi Se io lasciassi Le opzioni Di default Del piano E Mettessi La possibilità Di rimbalzare Del cubo Al massimo Il risultato Il modo In cui Cambierebbe Il risultato Sarebbe Minore A come Cambierebbe Il risultato Aumentando La bounciness Del piano Invece Che del cubo Quindi se invece Lasciassi i valori Di bounciness Del piano Invece Se lasciassi i valori Di default Del cubo E aumentassi La bounciness Del piano Invece Magari Mettiamo Abbassiamo Un pochino La frizione Del toro Come vediamo Un oggetto Che precipita Dove non c'è nulla Praticamente Cade Verso L'infinito Dove Blender Non ha più dati Praticamente Cade E diventa L'unico dato All'interno Dell'abisso Interessante Probiamo Le opzioni Sensitivity Sensitivity Che Praticamente Vanno A gestire La distanza Ora Mettiamo A posto L'opzione Del cubo Beh L'unica opzione All'interno Di Sensitivity È l'opzione Margin L'opzione Che dovete Conoscere Bene La La margin Che per gli oggetti Attivi Si aggiunge anche La collision Margin Beh L'opzione margin Va a regolare La distanza Minima Che deve essere Presente Tra due oggetti Perché Che essi Vengano Considerati In pratica In pratica A contatto Che vuol dire Vuol dire Che considerate Ad esempio La superficie Del mio cubo E la superficie Del mio piano Beh Beh Come vedete Blender Considera Il cubo In collisione Con il piano Quando i due oggetti Si trovano A una distanza Di 4 cm Da qui Vediamo Che adesso Ogni quadretto Corrisponde a un centimetro Perché qui c'è scritto Centimeters E vediamo Che Blender Considera Il mio cubo In collisione Con il piano Quando distano 4 quadrettoni Cioè 4 cm Perché nell'opzione Margin C'è 0.04 metri Che Ce ne accorgiamo subito Soprattutto andando A modificare I valori Di units Sono 4 cm Andiamo a capire Meglio Che significa Essenzialmente Il significato Di tutto ciò È il seguente Due superfici Tra le quali È compresa Una distanza Inferiore O uguale A quella Inserita qui Beh Quelle due superfici Verranno considerate In contatto E quindi Gli oggetti Andranno A comportarsi Come se fossero Appunto In collisione Se io vado A far scendere L'opzione Di margin Come vediamo Adesso Blender Considererà A contatto Non più Due superfici Distanti 4 cm Ma due superfici Distanti 2 cm Più io Abbasso Il margin Più Diventa preciso Il mio risultato Mettiamo Un centimetro Come vediamo Adesso Che ho Sì Più Diventerà Preciso Il mio risultato Probiamo Mettere Per esempio Punto Zero Zero Uno E blender Blender Considererà A contatto Quindi in collisione Due superfici Qualsiasi Due superfici Che hanno Tra loro Una distanza Superiore A punto Zero Zero Uno Metri Cioè Un millimetro Più questo valore Infatti adesso Vediamo che le collisioni Che riguardano La superficie Inserita Cioè il piano Sono molto Molto precise Tutte quelle Che coinvolgono Un piano E già questo È molto Molto importante Non mettete Valori di zero Perché si potrebbe Pensare Che con zero Ottengo le collisioni Perfette Quindi direte Ah ma inseriamo Zero Non è meglio No Perché con zero I risultati Diventano meno Precise Quindi non inserite Valori di zero Per cui Se vedete Che si crea Uno spazio Tra il Vostro Oggetto Tra due Vostri oggetti Rigidbody Che entrano in collisione Dovete Essenzialmente Andare a diminuire L'opzione Collision Margin Senza mai Farla arrivare Appunto Al livello Di zero E già questo È molto importante È l'unica Tipo È l'unica Tipologia Di errore Che si va A A Correggere Non Non Portando Il Convert Sul A Mesh Molto bene Poi Vedremo Che Che altri oggetti All'interno Nella nostra Che gli oggetti Attivi All'interno Nella nostra Scena Solo Gli oggetti Attivi Ripeto Solo Gli oggetti Attivi Non hanno Non possiamo andare a modificare Il collision margin Cioè Lo possiamo andare a modificare Però come vediamo Un'opzione scura Se l'opzione è scura Vuol dire Vediamo che è un'opzione Di cui il colore Della scritta E dei dati È quasi trasparente Vuol dire che Blender Quest'opzione Non l'andrà ad utilizzare Questo perché Non è abilitata L'opzione Collision margin Nel senso che Per gli oggetti attivi Solo per gli oggetti attivi Quindi solo per gli oggetti Che nel nostro caso Fanno parte Della collezione active Solo per quegli oggetti Blender Andrà a Pensare Lui personalmente A A quale deve essere Il bordo di collisione Per il bordo di collisione Si intendono Delle linee fittizie Facenti parte Della mesh Quando Un altro oggetto Raggiunge quelle linee fittizie Blender Considere due oggetti In collisione L'algoritmo Utilizzato Per la generazione Delle linee Lo scegliamo Da shape Con collision margin Quindi praticamente Senza collision margin Blender Va a Scegliere lui Come lavorare Con l'opzione Di margine Abilitando L'opzione collision margin Potete andare A lavorare tranquillamente Sull'opzione di margine Molto interessante È l'opzione Collections Vediamo che abbiamo In disposizione Questa piccola matrice E a dire la verità L'idea Di una matrice Noi la incontriamo Per la prima volta Se non stessimo usando La versione 2.8 Di blender Ma se non stessimo usando Una versione successiva La 2.8 Stiamo utilizzando La 2.93 Però se stessimo utilizzando Una versione precedente Alla 2.8 Come per esempio La 2.8 Alpha O le versioni Che arrivano fino Alla 2.79 Noi questa matrice L'avremmo già incontrata Perché in quel periodo Blender Non aveva il concetto Di collezioni Che ormai Noi in realtà Conosciamo molto bene Ma aveva un concetto Di livelli Dove Che era in realtà Completamente diverso Per quanto riguarda Le collezioni Non esistevano Ovviamente Il sistema delle collezioni È molto più Più utile I livelli Erano qualcosa Di diverso Anche dai semplici Livelli Del 2.0 Era proprio Una cosa Quasi simile Alle collezioni Però si basava Su idee Diverse Comunque Questa matrice Vi permette Immaginate Ognuno Di questi Riquadrini Come una Come un gruppo Nel quale Inserire il vostro oggetto Come vediamo Ogni oggetto Di default Ha selezionato Il primo Riquadrino E perciò Si trova Nel primo gruppo Se io Con il cubo Selezionassi Il secondo Riquadrino Si troverebbe Nel secondo gruppo Se selezionassi L'ultimo Riquadrino Si ritroverebbe Nell'ultimo gruppo Sono 20 Quindi nel ventesimo Decimo gruppo Undicesimo Dodicesimo gruppo Quindicesimo gruppo Diciottesimo gruppo Sesto gruppo E così via Qual è l'utilità Di questi gruppi? Bene Praticamente In termini di Rigidbody Interagiscono Fra loro Solamente oggetti Che fanno parte Dello stesso gruppo Che vuol dire Essenzialmente Vuol dire questo Se io Rendo La mia scimmia Del secondo gruppo Per farvi un esempio Il mio piano E anche il mio cubo Del secondo gruppo Vediamo che il cubo Non potrà più interagire Con il piano Né con nessun altro oggetto E neanche la scimmia Lo farà Per il semplice motivo Che il cubo E la scimmia Fanno parte Del secondo gruppo E perciò Non vanno a interagire Con gli altri oggetti Immaginiamo di inserire Un nuovo piano Plane S5 Contro la Scale GZ Rigidbody Passive E mettiamo anche questo Nel secondo gruppo Rivotiamo il cubo Nel secondo gruppo E anche la scimmia Vediamo che adesso Questo Questo E questo oggetto Si trovano nel secondo gruppo Questi tre oggetti Mentre tutti gli altri Si trovano Non nel secondo Ma nel primo gruppo Perciò Piano Icosfera E toro Interagiranno fra loro Ma non con il cubo La scimmia O il piano di sotto Che invece Interagiranno fra loro Come vediamo Il cubo Non può interagire Con il piano di sopra Però può interagire Con il piano di sotto Perché il cubo Non fa parte Dello stesso gruppo Del piano di sopra Ma fa parte Dello stesso gruppo Del piano di sotto Allo stesso modo La scimmia Non può interagire Con il piano di sopra Però può interagire Con il piano di sotto E anche con il cubo Vi faccio notare Perché E anche con il cubo Perché Questi tre oggetti Fanno parte di un gruppo Possono interagire fra loro Ma non Con gli oggetti Che fanno parte Di altri gruppi Per esempio Inseriamo in mezzo Un altro piano Legit body Anche questo Lo mettiamo al passivo E lo inseriamo Nel terzo gruppo Come L'icosfera Adesso Questo piano E l'icosfera Quindi il piano in mezzo E l'icosfera Si trovano Nel gruppo numero tre E perciò possono interagire Fra loro Ma non con tutti gli altri oggetti Il piano di sopra E il toro Si trovano nel primo gruppo E quindi possono interagire Fra loro Ma non con gli oggetti Degli altri gruppi Scimmia Cubo E il piano di sotto Si trovano nel secondo gruppo E quindi possono interagire Fra loro Ma non con tutti gli altri oggetti Vediamo praticamente Che posso Rassumendo Posso Con queste matrici Possiamo andare A inserire il cubo In altre parole Queste matrici Ci permettono di scegliere Possiamo andare a selezionare Un quadratino Per ogni oggetto Interagiranno solo gli oggetti Che fanno parte Dello stesso quadratino In questo modo Possiamo fare in modo Che il cubo Ignora questo piano Ma l'icosfera Non fa lo stesso Ora Reinseriamo tutti Nel gruppo numero 1 E cancelliamo i due piani di sotto Intendiamo a vedere La nostra animazione Così com'era Molto bene Interessante Infine Per gli oggetti attivi E solo per gli oggetti attivi Abbiamo un Un menu delle dinamiche Dove abbiamo le opzioni Dumping translation E dumping rotation Ok Praticamente Andiamo magari adesso A prendere il nostro cubo Bene Praticamente Queste opzioni Vanno a regolare Quanto ogni oggetto Può muoversi Dumping translation O ruotare O ruotare Dumping rotation Per esempio Mettiamo al massimo Dumping translation E il cubo non si muove più Mettiamo al minimo Dumping translation E il cubo si muove in modo Molto più fluido Rispetto agli altri oggetti Mettiamo al massimo Mettiamo al massimo Dumping rotation E il cubo non ruoterà mai Neanche quando arriva Una collisione Rimettiamo i valori di default Per il cubo Per esempio Aumentiamo il dumping rotation Per la scimmia E vediamo che la scimmia Adesso farà molta più fatica A ruotare Quindi più è alto Dumping translation Più un oggetto fa fatica a muoversi Più è alto Dumping rotation Più un oggetto fa fatica a ruotare In realtà i valori di default Che permettono sempre Di ottenere un risultato Abbastanza realistico Inoltre Abbiamo il pannello Abbiamo quest'ultimo pannello Bene Praticamente Attivandolo Abbiamo in disposizione Tante nuove opzioni Relative A Relative Ai colpi rigidi Che Tre nuove opzioni Che ci possono permettere Di andare a regolare Il modo in cui un corpo rigido cade Per esempio La velocità lineare Che si perde nel tempo La velocità angolare Che si perde nel tempo Praticamente Più aumentiamo La velocità lineare Più Con il tempo Il modo in cui Un oggetto Si muove Quindi più aumentiamo La velocità lineare Più il modo in cui Un oggetto trasla Con il tempo Tenderà a smorzarsi Più aumentiamo La velocità angolare Più il modo in cui Un oggetto Rallenta le sue rotazioni Tenderà ad aumentare Per esempio Aumentiamo Il bounciness Del cubo Così torniamo A riavere Il cubo rimbalzante Che vedemmo Prima Aumentando Linear velocity Possiamo fare in modo Che ogni Secondo Si perdano Che costantemente Si perdano 19.8 Metri Al secondo Di Di velocità E come vediamo Facendolo Con il tempo Il cubo Tende a perdere Sempre di più La sua Tende sempre di più A muoversi più lentamente Mi spiego Questo è il valore Che verrà Questo è il valore Di energia Per quanto riguarda La traslazione Che verrà Costantemente Perso dal cubo Come vediamo Aumentando tanto Questo valore Il cubo Perderà In modo Molto più veloce La sua energia Per quanto riguarda Gli Spostamenti Velocity Angular Invece Va a regolare Il modo In cui Il cubo Con il tempo Va a perdere La sua energia Per quanto riguarda Le votazioni Questi parametri Ci permettono In realtà Con simulazioni Molto complesse Di andare a regolare Piccoli dettagli Probiamo L'opzione Start Start Deactivate Che in realtà È molto alimentare Come opzione Semplicemente C per me In scene Molto complesse Con decine di oggetti Magari Blender Può fare fatica Ad andare a calcolare Le collisioni Di ogni singolo oggetto E la soluzione Può essere essenzialmente Questa Possiamo chiedere a Blender Di non Andare All'inizio Dell'animazione Di non andare A calcolare Le collisioni Del cubo Finché un oggetto Non si avvicina Entro una scelta soglia Quando un oggetto Si avvicina Entro una scelta soglia Come per esempio Il piano Blender tornerà A calcolare Le collisioni Del cubo Così facendo Blender Non calcolerà Le collisioni Del cubo Quando non ci sono In altre parole Finché un oggetto Non si avvicina Entro una scelta soglia Cosa che Blender Controllerà Costantemente Finché un oggetto Non si avvicina Entro una scelta soglia Blender Non andrà A calcolare Le collisioni Del cubo Quindi finché il cubo Non avrà una collisione Blender Non mi andrà A calcolare Le collisioni E non ci andrà Nemmeno a provare Detto così Può sembrare banale Però Gli basti sapere Che attivando L'opzione Start deactivated Cioè inizio Disattivato Andrete ad aumentare Moltissimo Il vostro A diminuire tantissimo Il tempo di calcolo Del vostro pc Bene Adesso andiamo Nel pannello Scene E all'interno Abbiamo Rigid Body World Vediamo come funziona Disattivando In altre parole Vengono salvati All'interno Di questo pannello Tutti i dati Relativi a tutti I corpi rigidi Di tutta la nostra scena Sia attivi Sia passivi Se io disattivo Questo pannello Blender andrà A ignorare Tutti i corpi rigidi All'interno Della nostra scena Tant'è che non c'è più animazione L'unico tipo di animazione Rimasto È quello che avevamo Settato prima Attraverso i keyframe Andando a riattivare Rigid Body World Blender torna A riconsiderare I corpi rigidi Rimuovo Rigid Body World È un'opzione Molto triste Che mi va A rimuovere Tutti I rigid body Ok Poi Qui all'interno È inserita Una collezione Tra virgolette Fittizia Che va a Contenere Tutti i corpi rigidi Della vostra scena In realtà E qui all'interno Invece Verrà inserita Come vediamo Nella prossima lezione Una collezione Fittizia Che va a A contenere Tutti gli oggetti E questa Sarà applicata Una fisica Tipo Rigid Body Constraint Che ancora non conosciamo Però qui andrà Verrà inserita Una collezione Fittizia Che contiene Tutti i corpi Contenenti Un Rigid Body Constraint C'è un vincolo Del corpo rigido Come vediamo Nella prossima lezione Adesso Per esempio Possiamo andare A regolare La velocità Della nostra animazione Per esempio Possiamo mettere La velocità Punto 5 In modo Che il modo In cui si muovono Tutti i corpi Rigidi Scenda E infatti Ho anche Adoppiato La due Attele L'animazione Adesso Ho diviso Per 4 La velocità Perché andiamo A quadruplicare Ho diviso Per 4 La velocità La lunghezza Dell'animazione Perché andiamo A moltiplicare Per 4 La velocità In cui si muovono I Rigid Body Così facendo Tutte le animazioni Dei corpi Rigidi Saranno perfettamente identiche Ma molto Molto più veloci Ricordatevi tuttavia Che la scimmia Inizia Ad essere Un corpo rigido Allo stesso frame Quindi adesso La scimmia Continua A A diventare Un corpo rigido Al frame 50 Ma al frame 50 La situazione Nel Rigid Body World È molto più avanzata Inoltre Split Impulse Fa in modo Che quando un oggetto Colpisce Quando un oggetto Ne colpisce Un altro Ogni volta Che avviene Una collisione Con Split Impulse Chiediamo al computer Di calcolare La velocità In più Di calcolare Scusate La perita di velocità Perché nella realtà Se io prendo un oggetto E lo lancio contro un altro Alla fine Entrambi gli oggetti Avranno avuto Una perita di velocità Con Split Impulse Chiediamo a Blender Di tenerne conto Poi abbiamo Tante altre Opzioni relative Sub steps Per frame Praticamente equivale A quante volte Blender Deve andare A calcolare Il corpo rigido Quanti calcoli Relativi al corpo rigido Deve fare Blender Per ogni fotogramma E tempo per le povere Più aumentate Questo valore Più aumentate Il tempo di calcolo Ma contemporaneamente Il vostro lavoro Sarà più accurato Con Cache Gli potete dire Quanto dura La simulazione Rigid Body Cioè gli potete andare A dare un inizio E una fine Per tutta la simulazione Di tutti i corpi rigidi Se io mettessi La fine A 70 Arrivato al frame 71 Tutti i corpi rigidi Si fermerebbero istantaneamente Se io mettessi La fine a 200 Blender andrebbe A farmi calcoli Del corpo rigido Anche dopo la fine Dell'animazione Il che non ha senso Abbiamo visto Con i sistemi particolari Che con i sistemi particolari È possibile chiedere a Blender Di fare tutti i calcoli Relativi In prima Dell'inizio Dell'animazione Lo possiamo anche fare qui Cliccando Con su Bake Adesso Blender Mi ha già fatto Tutti i calcoli In preventivo Disattiviamo Split Impulse Per fare in modo Che i movimenti Del cubo Tornino a farlo Concidere Con la scimmia A patto ovviamente Di cambiare Di riportare anche L'opzione Bounciness Del cubo a zero Che prima avevamo cambiato Per fare degli esperimenti Ah ovviamente Avete notato Che dopo che io Ho cambiato L'opzione Bounciness Dopo che l'ho cambiata Non è cambiato Per niente Il risultato Perché? Perché Blender Ha già fatto Tutti i calcoli E quindi Dopo che avete fatto Il Bake Se voi andate A cambiare Le impostazioni Il problema Non succede niente Perché Blender Ha fatto già Tutti i calcoli Del corpo rigido E continua A usare i calcoli Che ha fatto prima Dopo che avete fatto Il Bake Quindi dopo che avete Premuto il pulsante Bake Ogni singola volta Che andate a fare Ogni singola modifica Dovete premere Delete Bake E poi di nuovo Bake Se non premete Delete Bake E poi di nuovo Bake Le modifiche Che avete fatto Non le vedrete All'interno Nella vostra viewport Infine Field Weights Essenzialmente Ci permette Di cambiare Il modo In cui I Rigid Body Interagiscono Con determinate forze Per esempio Posso andare a mettere La gravità A punto 6 E i colpi rigidi Subiranno la gravità Al 60% Tutto via Queste opzioni Le vedremo Quando andremo A parlare Dei Field Weights Bene Poi Un'altra opzione Abbastanza interessante Immaginiamo Di cancellare Tutti gli oggetti Colpo rigido In un colpo solo Andiamo in One Frame Mode Selezioniamo Questi oggetti Andiamo nel menu Object Rigid Body Adactive E mi ha aggiunto A tutti questi oggetti Un Rigid Body Di tipo attivo Invece Se ne se Se premete Add Passive Vi aggiunge Tutti gli oggetti Selezionati Un Rigid Body Di tipo passivo Ovviamente Quando mi vai Inserire Un Rigid Body Lo Io ho cancellato Il Rigid Body Di prima Li ho reinseriti Quindi ci sono le opzioni Di default Per cui Per esempio Blender Inserisce nel mio piano Un Combat Soul Invece che un Mesh E Ultimo Ma non ultimo Vediamo che nel piano Va a simulare I corpi rigidi Ignorando il fatto Che il piano si muova Perché nel piano È disattivata L'opzione Animated Che per i Rigid Body Passivi Dovete abilitare Sempre Adesso Di nuovo Un effetto simile A quello che avevamo Poco fa Ok Poi L'opzione Object Rigid Body Remove Mi elimina Il Rigid Body Da tutti Il Rigid Body Da tutti gli oggetti Selezionati Tranquillo Premuto Ctrl Z Poi Change Shape Mi permette di selezionare Un'opzione di Shape Per tutti gli oggetti Selezionati Quindi se io premo Mesh Per tutti gli oggetti Selezionati Mette lo Shape A Mesh Molto bene Poi Rigid Body Calculate Mass Mi calcola Automaticamente La massa In base a un materiale Che gli potete andare A dire adesso Mi spiego Mettete che questo Che volete che questo piano Sia di legno Perché magari poi Nei materiali Lo andate a fare di legno Quindi andate ad applicare Un materiale di legno In Calculate Mass Beh Vi basta trovare L'opzione Che più si Va A Adattare Alle vostre Esigenze E avrete L'opzione che vi serve Adesso magari Cerchiamo Cerchiamo Qui ci sono ovviamente Tantissime opzioni Per esempio Un oggetto Di Doro Per esempio Ho creato un materiale Doro Scegliete Gold E Blender Vi ha automaticamente Calcolato la massa Di questo oggetto Come se fosse Un oggetto Doro In questo caso Non ha fatto niente Perché con un oggetto passivo Che non ha massa Mettiamo che voi In Con i materiali Rendeste questo cubo A punto d'oro Vi basterebbe andare A scegliere L'opzione oro Da qui Con Gold E lui vi sarebbe Andato a modificare La massa del cubo Come se fosse Un cubo d'oro Calcoliamo che Questo è un cubo Con lo spigolo Di 2 metri Perciò parliamo Di 2 alla terza Metri cubi Quindi parliamo di 8 metri cubi 8 metri cubi Tutti di oro Sarebbe una massa Veramente molto grande E infatti Mi ha inserito 49.037 kg Abbastanza Da fare in modo Che qualunque altro oggetto Che lo colpisce Non subisca La benché minima Modifica Ma Cioè Che Scusate Facendo in modo Che qualsiasi oggetto Che lo colpisca Non venga Non possa Andare a modificare Il modo in cui si muove Il cubo Che è troppo massivo Per essere influenzato Da altri oggetti A parte ovviamente Il piano Ma il cubo Vara di influenzare Pesantemente Il movimento Della scimmia Del tori Dell'icosfera Quando eventualmente Lo vanno a colpire Inseriamo un bel bake Per far fare Per fare a blender Il calcolo In modo preventivo Con esc Potete Firmare il bake E' importante Per chi ha la end E' inserito 250 Perciò blender Non ne faceva il bake Fino al frame 250 Clicchiamo su bake E andiamo a vedere Quello che succede E vediamo che infatti Adesso Quando un oggetto Colpisce il cubo Il cubo Si muove molto poco Perché è una massa Gigantesca Ma l'oggetto Che l'ha colpito Ovviamente Viene pesantemente Deviato Prendiamo per esempio Questa scimmia Prendiamola E andiamo a dargli Una massa Adatta per esempio Al ghiaccio solido Infatti adesso La mia scimmia 1913 kg Di massa Bene Questo vi permette Di avere una grande Personalizzazione Poi Poi Andando a scegliere Invece L'opzione Custom Lui Lui mi va A cambiare La massa Del mio oggetto In base Esclusivamente Al suo volume Quindi Utilizzando L'opzione Custom Appunto Blender Mi va a ricalcolare La massa Dei rigid body Basandosi Esclusivamente Sui loro volumi E non E non Sono Un materiale Quindi Calculate Mass Custom Lo fa Automaticamente Basandosi Esclusivamente Sul volume Stesso Non Su Un materiale Quindi Cerca di farlo Pensando al volume Dell'oggetto Non vi chiedo Un materiale Se scegliete Custom Questo è utile Quindi Se magari Non c'è un materiale Specifico Di cui avete realizzato L'oggetto L'opzione Custom Vi va a regolare La massa Dei vari Rigid body In base Al volume Quindi Che vuol dire Vuol dire Che se inserete Un solo oggetto Con custom Magari Non ha tanto senso Ma se Selezionate Tutti gli oggetti Con il rigid body Calculate mass E mettete A tutti L'opzione Customizzata Ovviamente Siete sicuri Che l'oggetto Più grande Avrà una massa Maggiore Dell'oggetto Più piccolo Spero di essermi spiegato Quindi Se magari Non avete realizzato L'oggetto Di un materiale Specifico Ma volete comunque Avere un grande Realismo In questo modo Vi assicurate Che Blender Vada A calcolare Il La massa Dei miei oggetti Escolissivamente In base Al mio volume Così Non vi dovete preoccupare Di che materiale è E siete sicuri Che l'oggetto Più grande Ha una massa Maggiore Dell'oggetto Più piccolo Vedete però Che non è cambiato Assolutamente niente Nel modo in cui Si comportano I miei corpi Rigidi Calcolando la massa Questo semplicemente Perché c'era ancora Il bake Qualsiasi modifica Anche piccolissima Che fate Dovete prima Cancellare il bake E poi andarlo A Rinserire Vale Altre opzioni Interessanti Ah Ecco 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 Questo è molto interessante Selezionate Una serie di oggetti Eh Sì Questo è abbastanza Interessante Andiamo a inserire Una serie Di oggetti Questa è un'opzione Molto usata Per esempio Questo cilindro A cui non gli farebbe male Un auto smooth Allora Lo duplico Lo duplico Lo duplico Lo duplico Lo duplico Adesso Se io volessi Andare Ad aggiungere Il rigid body A tutti questi cilindri Che dovrei fare Dovrei andare A un cilindro Alla volta E premere Il rigid body E poi magari Anche settare Le determinate opzioni No Mi basterebbe Scegliere il cubo Selezionare Tutti i cilindri Assicurarmi Che il cubo Sia l'oggetto attivo Quindi se mi assicuro Che il cubo È l'oggetto attivo Poi questo cubo È un rigid body Di tipo attivo Con rigid body Copy from Activo Blender All'interno Degli oggetti Selezionati Mi va a trovare Il rigid body Attivo Cioè il mio cubo Per prendere Tutte le sue informazioni Tutti i suoi dati Tutte le sue specifiche E mi le va a copiare A tutti gli altri oggetti Compresa la massa Bene Magari continuiamo Da una scena Un pochino più Pulita Altrimenti Per Non avere Tanti oggetti In mezzo Contro la scale Il rigid body Il piano passivo Il cubo Attivo Vediamo sempre Il solito risultato Magari che ne so Con tanti bounciness Con un grande bounciness C'è un grande rimbalzo Abbiamo per esempio Questo bell'effetto L'opzione Con Altre opzioni interessanti Bake To keyframes Lo possiamo inserire Ci chiede A quale frame Vogliamo che Ci trasformi Praticamente Tutto il rigid body In keyframes Prende l'animazione Rigid body E le trasformi In keyframes Frame di inizio Frame di fine E quanto deve essere accurata Tutte le opzioni default Sono perfette E adesso vediamo che Ha trasformato Tutto il rigid body In keyframes Tant'è che il rigid body Non esiste più I keyframes Ovviamente Non hanno niente a che fare Con la fisica Perciò adesso Anche se io vado a cancellare Il mio piano iniziale Adesso il cubo È in keyframes E perciò Vado a vedere Il mio risultato Anche cancellando Gli oggetti Di tipo Q Gli oggetti Che hanno Che andavano a generare Le mie collisioni Che ne so Probabilmente Possiamo evitare Tutto ciò Come un qualsiasi altro Keyframes Lavorando sempre Con l'interfaccia Dei keyframes Non è il caso In cui vogliamo fare Tutto ciò Però comunque sia L'interfaccia È quella Questo è utile Per esempio Se vogliamo Che le trasformazioni Create Mediante Il Rigidbody Siano presenti Anche dopo Un'eventuale Cancellazione Degli oggetti Collisori Ecco Pensiamo La timeline E questa è la nostra Nuova bellissima Animazione È un'opzione Molto utile Abbondanti Control Z Per tornare Alla fase In cui il cubo È ancora Un corpo rigido E non un semplice Calco animato Allora Poi abbiamo L'opzione No Qua il cubo Era già Ok Vediamo che adesso Abbiamo di nuovo Il cubo Come rigidbody Poi Selezionato Un oggetto No Qua il cubo Era Un Ok Siamo tornati Alla fase In cui il cubo È ancora Un rigidbody Facciamo Partire L'animazione Scegliamo per esempio Questo punto Object Rigidbody Ultima cosa Che vediamo oggi Apply Transformation L'apply Transformation Praticamente Equivale Ad applicare La trasformazione Con il comando Control A Farlo Quindi mi applica Tutte le trasformazioni Del mio oggetto Farlo Attraverso Il rigidbody Vuol dire Diga blender Guarda Hai presente la posizione Che il cubo Ha assunto In questo punto Della simulazione Bene Deve partire Da quella posizione Molto bene Per esempio Se io adesso Faccio partire La mia animazione Seleziono il mio cubo Object Rigidbody Apply Transformation Tornando al frame 1 Vedo che dal Frame 1 Il cubo parte In quella posizione Ovviamente Se il cubo parte Da questa posizione Quando arriva In questa posizione Non ha Una spinta Mentre se arrivava In questa posizione Da una caduta Quando era In questa posizione Aveva già Una spinta Proveniente Dal fatto Che stava Già cadendo Perciò Ovviamente Il modo In cui Si risolve La simulazione È cambiato Detto questo Direi che abbiamo Finito Di parlare Dei rigidbody L'opzione Connect La vedremo Nella Nella prossima Lezione Sui Rigidbody Constraint Allora io vi saluto E ci vediamo Proprio nella prossima Lezione Seguiteci in questo Corso Di Eagle Sera Allora io vi saluto Allora io vi saluto